salve a tutti cari amici sono sempre io Emiliano Babilonia questo è un avviso nazionale per le vittime del controllo mentale e per i loro familiari inducono le vittime a fare dei reati o a fare delle infrazioni stradali attraverso il controllo radiocognitivo e attraverso la manipolazione del ragionamento logico e attraverso la perdita della memoria temporale vi voglio fare un esempio una ragazza target individuals entra all'interno di un bar si siede ordina un caffè e dopo gli fanno pensare di mangiare un cioccolatino a rum la ragazza mangia il cioccolatino a rum esce fuori dal locale prende la macchina fa 500 metri la fermano al posto di blocco gli fanno l'alcol test e risulta positivo gli hanno fatto una multa gli hanno sequestrato la macchina lei l'ha spiegata ha detto guardate che io sono uscito adesso dal locale non sono un'alcolizzata e gli hanno sequestrato la macchina un altro ragazzo sta all'interno di una pizzeria all'improvviso lo attaccano con le armi ad energia diretta non deconvogliate entra di corsa nel bagno si sciacqua la testa per raffreddare il cervello diciamo raffreddare la fronte e di corsa va in macchina e si siede dentro la macchina il proprietario del locale esce di fuori di corsa lo va a prendere e gli dice te non hai pagato il conto è quello che ha detto dice ma io mica sto andando via è sta in macchina che cosa stai facendo è quello che ha detto io ho acceso la recondizionata per raffreddarmi la testa quello non ci ha creduto e pensava che quello stava scappando e meno male che pure lì c'erano delle persone che conoscono questo ragazzo e si è risolto diciamo con un equivoco è stato pagato il conto oggi dovevo andare in un posto allora ho detto visto che stamattina devo andare in questo posto perché dovevo andare a pranzo a casa di alcuni parenti mi porto questi due pezzetti di plastica per vedere se ci sono praticamente dei pezzetti di plastica un po' più lunghi per poter fare una modifica a una cosa che io sto facendo prendo questo prodotto me lo metto in tasca entro in macchina quando arrivo lì mi accorgo che non avevo lo scontrino che non trovo lo scontrino non mi ricordavo dove l'avevo messo e questo lo fanno attraverso il controllo mentale con il blocco della memoria temporanea allora io vado via da questo posto vado a casa di questo parente mangio tutto quanto poi alla fine io vado via presto quando ritorno indietro dico ma fammi passare ugualmente per andare a vedere se ce n'è uno sostitutivo o uno con misure differenti io sono entrato all'interno del locale senza pensare che io avevo questo prodotto in tasca e che dovevo passare alla reception e dire guarda che io entro con questo prodotto che ho comprato una settimana fa io non ci ho pensato a questo entro all'interno del locale vado nello scaffale dove c'era il prodotto ma questo prodotto che avevo io era incartato allora che faccio io lo scarto e metto vicino agli altri prodotti per vedere le varie misure prendo il prodotto me lo metto in tasca mentre cammino vado lì vicino al bagno prendo la carta e la butto dentro al set entro dentro al bagno vado a sciacquarmi poi le mani esco fuori dal bagno e vedo una persona che mi viene dietro mi dice lei che cosa è andata a fare al bagno io ho detto guarda sono andato al bagno per sciacquarmi le mani mi ha detto ma al bagno abbiamo trovato questo la scatola del prodotto io ho detto sì io ho detto io questo questo prodotto l'ho comprato una settimana fa mi ha detto allora mi devi far vedere lo scontrino lo scontrino non ce l'avevo e quello giustamente ha pensato dice te sei venuto qui hai rubato il prodotto l'hai scartato hai buttato la carta e adesso te lo sei messo in tasca come gli spiegavo che aveva aperto il prodotto per confrontare se andava bene con un altro prodotto che io avevo acquistato non lo potevo fare questa cosa qua allora c'è stata una piccola discussione gli ho detto senti gli ho detto come si può risolvere questo problema mi ha detto dovresti pagare il prodotto allora io sono andato alla cassa gli ho detto ecco 2 euro e 49 e li pagato io esco fuori e gli dico se trovo lo scontrino te lo posso portare e mi gli date i soldi ha detto dopo quando porta lo scontrino vediamo come fare io vado via vado in macchina all'improvviso mi fanno ricordare questi con il controllo mentale dove avevo messo lo scontrino trovo prendo lo scontrino lo trovo lo prendo rientro dentro al locale gli dico guarda questo è lo scontrino che io avevo acquistato il prodotto 2 euro e 49 quelli guardano lo scontrino e dicono ma lei l'ha acquistato una settimana fa il prodotto certo sono venuto per vedere se c'era un sostituto di questo prodotto per vedere se era uguale a un altro che io avevo perché io dovevo sostituire questi due pezzi di plastica e dovevo vedere se era uguale a quello che avevo che era stato comprato un po' di tempo fa giustamente lui mi ha detto il prodotto per sostituirlo te lo devi portare chiuso e te quando vieni da noi devi venire con il prodotto con lo scontrino andare direttamente alla reception cambiare il prodotto con un buono ti prendi il buono e poi praticamente acquisti il prodotto che devi acquistare o che devi cambiare io purtroppo non avevo fatto questo perché con la manipolazione radiocognitiva io sono entrato subito dentro non ci ho pensato a fermarmi alla ricerca e a far vedere il prodotto sono andato subito ai scaffali ho visto praticamente le misure però ho detto ah non c'è la misura ho detto va bene è uguale ho scartato il prodotto perché io già l'avevo scartato per montarlo praticamente su questo pezzo allora ho detto vabbè sti cavoli non fa niente tanto è uguale poco poco più piccolo ma non è che succede niente vado al bagno butto la carta e poi stavo uscendo quando stavo uscendo insomma mi ha fermato questa guardia giurata questo quello dell'antisiaccheggio mi ha detto mi scusi che cosa andrà a fare lei al bagno ho detto eh sono andato al bagno per sciacquare mi dice è questo ho detto è questa la carta che ho buttato di un prodotto che ho acquistato qualche giorno fa e giustamente la guardia giurata dell'antisaccheggio mi ha detto dice lo scontrino e io non ce l'avevo niente quindi quella ha detto che no io non la posso far uscire con questo prodotto perché se l'esce con questo prodotto per me è come se lei l'ha rubato gli ho detto sì ma a me mi serve non è posso ritornare un'altra volta gli ho detto come si può risolvere il problema dice lei deve ripagare il prodotto 2 euro e 49 allora io che ho fatto ho pagato il prodotto perché era giusto perlomeno fare questo sono uscito dal locale vado in macchina trovo lo scontrino e porto lo scontrino dentro al locale gli dico guardi ecco lo scontrino lui guarda lo scontrino e dice eh ma questo scontrino è di sette giorni fa e che vuol dire che è di sette giorni fa e poi mi ha detto lei la scatola l'aveva aperta e aveva buttato pure la carta e ci aveva ragione in un certo senso e mi ha detto dice adesso io non posso fare niente perché lei doveva entrare all'interno del locale portare lo scontrino con il prodotto portarlo praticamente all'interno della darlo alla reception ti danno il buono e poi puoi fare tutto quello che vuoi io ovviamente non avevo fatto questo e dalla parte della ragione sono passato solamente dalla parte del torto perché poi questa persona mi ha detto a me vediamo con le telecamere se lei si è avvicinata allo scaffale io lo scaffale mi c'era avvicinato perché dovevo vedere praticamente la compatibilità del prodotto io vedo che era più alto e invece quell'altra era più basso quindi io pensavo che non era compatibile siccome con la manipolazione radiocognitiva attraverso il ragionamento logico immettono la rabbia e l'odio o mettono delle deduzioni che fanno cambiare il ragionamento verso di noi verso i nostri riguardi e ci fanno molte volte discutere con delle persone senza che noi facciamo niente o fanno pensare male delle persone che ci stanno intorno di cose che noi stiamo facendo per altri tipi di motivi cioè nel senso io faccio delle opere di beneficenza e quelli dicono no te fai queste opere per altri scopi oppure altre persone che noi aiutiamo dopo un po' ci chiudono la porta in faccia e ci dicono no no voi invece di aiutarmi volete fare chissà che cosa allora noi sappiamo che funziona così addirittura all'interno dei social creiamo dei gruppi e dopo le persone che saranno all'interno dei gruppi cominciano a litigare tra di loro e noi sappiamo perfettamente che questi litigi avvengono per la manipolazione radiocognitiva per il ragionamento logico che viene totalmente deviato io scrivo una frase e una persona dice ah ti hai scritto questa frase perché ce l'hai con me no guarda questa frase è stata scritta per un'altra persona che non sta neanche nel gruppo invece questa persona dice no 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 te l'hai scritta perché vuoi offendere me e allora dopo noi cerchiamo di far capire alla vittima quello che noi stiamo facendo e la vittima non creda a questo e molte volte se ne vanno via dei gruppi e vanno in altre parti dove poi si rovinano oppure tante altre vittime vanno nei pronto soccorsi per dire quello che stanno subendo e immediatamente manipolano i ragionamenti logici dei dottori e le persone che le persone vengono messe in TSO quindi oggi praticamente hanno fatto pensare alle guardie giurate o a quelli dell'antisaccheggio che ero entrato all'interno del locale per rubare un prodotto invece io ero entrato nel locale per sostituire il prodotto ma non avevo lo scontrino l'errore mio è stato non andare alla reception immediatamente e una volta che stavo all'interno del locale stavo uscendo fuori quello mi ha detto lei ha buttato la carta vuol dire il prodotto l'ha rubato in un certo senso chi avrebbe seguito la situazione chi avrebbe chi dall'esterno si sarebbe trovato nella stessa identica situazione potrebbe aver eh dedotto questo allora per non far succedere i casini perché la manipolazione cerebrale fa sì di aumentare frequenze nel cervello che possono scaturire rabbia odio infatti la cosa strana che per ben due volte due persone differenti hanno detto allora chiamiamo i carabinieri e risolveranno loro questo problema allora quando viene detta questa frase vuol dire che stanno manipolando la mente di queste persone allora io ho detto guarda per due euro e quarantanove non fa niente ho sbagliato io a non entrare subito alla reception e portare lo scontrino e dire che devo cambiare il prodotto sono entrato direttamente però io vi dico solamente una cosa cari amici e che succede se io entro con una giacca di Gucci faccio un esempio eh o un giacchetto della Moncler all'interno di un negozio e il giacchetto magari me l'hanno regalato hanno pagato 300 euro faccio un esempio io ci vado dopo una settimana all'interno del negozio e quelli del negozio dicono lei non ha preso questo giacchetto e quello che dice io l'ho comprato qui una settimana fa e quelli ti dicono e fammi vedere lo scontrino che l'hai comprato qua e ti fermano e ti dicono te non l'hai comprato mi devi ripagare 300 euro per lo scontrino cioè per le vittime del controllo mentale diventerebbe un grosso problema questa cosa qui quindi c'è da riflettere bene determinate situazioni oppure io entro con un computer vi faccio un esempio con un portatile un tablet all'interno della borsa quello ti può dire dentro MediaWord mentre esci dice apri un po' la borsa e chi è questo tablet è il tablet che ho comprato una settimana fa quello che dice no fammi vedere lo scontrino e non ce l'ho qui lo scontrino l'ha rubato il tablet perché è successa questa cosa qui mo perché sono 2 euro e 49 non me ne è fregato niente 2 euro e 49 vabbè i soldi non ce l'ho diamo 2 euro e 40 noi facciamo vinta di me però ci sono molte altre persone che purtroppo vengono indotte a pensare male del nostro operato di quello che noi facciamo e molte volte succedono veramente nelle grossi catastrofi pensate che una volta hanno fermato mia madre in una frutteria e gli hanno detto praticamente che lei si era presa delle buste hai visto quando vai dentro le frutterie mettono le buste appese prendi la busta metti la frutta dentro e poi la porti alla cassa lei aveva preso 4-5 buste in più l'aveva messa nella borsa buste buste de plastiche e praticamente aveva fatto la spesa a un certo punto io sono arrivato gli ho detto dai sbrigati che ho da fare e che devo andare via mia madre cosa ha fatto ha preso è andata alla cassa è andata via l'ha fermata una persona ha detto signora che cosa ha messo dentro la borsa e mia madre ha detto ah no ho preso queste qua ho preso le buste che dovevo comprare eh ma queste non si possono prendere mica possiamo fare così io sono arrivato gli ho detto scusa ma come te permettiti ti dico a mia madre che si è preso 4 buste 4 buste de cielo e addirittura ti metti alla cassa eh ci aveva tutte le buste dentro la borsa ho detto ma quanto costano queste buste chiede te do un euro per le buste primo voi non le fate pagare le buste secondo sono piccole e terzo si rompono come niente perché sono quelle praticamente biodegradabili se prende due buste in più servono per mettere le doppie buste sulle sulle varie buste della frutta perché sennò praticamente si rompono quando io vado a casa e io ho fatto una battuta a quello lì della cassa e ho detto ma quando hanno annunciato lo scontrino o fate dei conti anomali e noi paghiamo uguale eh che dobbiamo dire allora e giustamente quello ha detto ah scusa 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 non è successo niente non è successo niente e io ho detto scusa ma qui c'è la gente che entra in frutteria se prendono le banane e se le mangiano entrano in frutteria se prendono la mela e se la mangiano poi arrivano alla cassa e pagano solamente determinate cose mia madre ha preso solamente quattro buste doveva comprare dieci cose di queste dieci in apprese e sei che sono rimaste quattro buste non è che per quattro buste le plastiche tipo di aprime la borsa fammi vedere le buste che ti sei messa dentro infatti io gli ho detto poi perché non c'è il proprietario se no io gli ho detto al proprietario dico ma questo come si permette di aprime la borsa fammi vedere quante buste te sei presa infatti io gli ho detto a mia madre ma io lo so che il controllo mentale che sono stati loro che manipolano e controllano la mente delle persone che ci stanno intorno e che simulano il teatrino da strada attraverso il controllo radiocognitivo e tutti diventano ostili contro di noi ma io lo so che succede questo qui lo so perfettamente che succede questo qui ecco perché dico di stare attenti su quello che fate pensate che io addirittura mi devo spostare di tanto in tanto per andare in vari luoghi differenti a fare che ne so le interviste di testimonianza le ricerche i filmati i montaggi dei filmati rispondere alle varie mail perché se rimangono nello stesso identico posto per tanto tempo fanno succedere degli avvenimenti anomali o fanno succedere delle situazioni di risse persone che litigano aggressioni o persone che te si mettono vicino ti dicono cose strane io ovviamente non voglio sapere di cose strane non voglio stare vicino a persone che non conosco perché non so come le potrebbero pilotare o come l'hanno pilotate e non voglio che succedano avvenimenti anomali quindi cerco sempre di stare in posti tranquillo e beato senza pensare a niente di niente di quello che mi accade intorno perché così se la mia mente non recepisce i segnali provenienti dall'esterno o le frasi che vengono dette da altre persone all'esterno o gli avvenimenti che succedono dall'esterno non possono i manipolatori di mafia militare o servizi segreti deviati a immettermi all'interno del cervello determinate frequenze o determinate deduzioni che fanno credere che noi siamo colpevoli di cose che noi non abbiamo fatto ma che magari stanno accadendo intorno a noi ma senza che noi sappiamo niente di niente o senza che noi sappiamo gli avvenimenti che accadono a persone che noi neanche conosciamo quindi amici molte volte il teatrino da strada non è il teatrino da strada ma sono marionette radio pilotate con il controllo mentale per simulare gruppi di stalker organizzati che ci vengono dietro ma in realtà sono solo target individuals che non si accorgono di essere pilotati con le alte tecnologie con i satelliti spia con l'elettron circolografia trascranici quindi faccio i complimenti alle guardie giurate di oggi alle persone dell'antisaccheggio per come hanno svolto il loro lavoro ovviamente essendo radio pilotati col controllo mentale non si sono accorti ovviamente delle deduzioni che si sono amplificate verso i miei riguardi però non c'è stato problema tanto io me ne sono subito accorto che le stavano pilotando queste persone per infierire contro di me però io ho capito la situazione immediatamente ho cercato di calmare i bollenti spiriti che si stavano creando ho detto hai pienamente ragione pago le 2 euro e 49 esco dal locale e dopo come trovo lo scontino te lo porto per far vedere che il prodotto era pagato io sono ritornato al locale ho portato lo scontrino ma ormai la manipolazione era in atto le guardie giurate venivano pilotate totalmente attraverso il controllo mentale radiosatellitare e ormai qualunque cosa io dicevo per loro io ero il colpevole allora ho fatto finta di niente era inutile spiegare che avevo aperto la carta sono andato al bagno ho buttato la carta era inutile spiegare questo perché tanto tutto quello che io avrei detto tutto quello che io avrei spiegato sarebbe stato manipolato attraverso il controllo mentale che avrebbe cambiato il loro ragionamento e avrebbe fatto infierire contro di me perché tutti e due hanno detto una frase che era uguale identica sia il primo che il secondo della guardia giurata hanno detto la stessa identica frase quelle sono frasi pilotate attraverso il controllo mentale attraverso le frequenze di ragionamento radio cognitivo e radio deduttivo e tutti hanno detto allora chiamiamo i carabinieri per vedere se il prodotto è stato acquistato oppure no e poi tutti e due hanno detto ma noi abbiamo le telecamere così vediamo se ti sei avvicinato ai scaffali io ai scaffali mi c'era avvicinato perché dovevo vedere se erano compatibili i due attacchi e quindi avevo già capito che mafia militare e terroristi militari avevano preparato molto bene i manipolatori burattinai a pilotare le marionette da strada un saluto a tutti cari amici cercate di evitare ogni confronto con ogni persona che vi sta intorno che sta per strada se vi dicono cose strane fate finta di niente prendete la ritere e cercate di allontanarvi da posti che potrebbero essere ostili e potrebbero creare dei danni tra qualche giorno posterò le nuove interviste testimonianza di varie vittime allontanatevi da alcol allontanatevi da ogni forma di droga blanda allontanatevi da ogni situazione anomala perché con il controllo mentale possono mettere le frequenze nel vostro cervello della dipendenza al gioco della dipendenza all'alcol della dipendenza alle droghe per pilotarvi in situazioni che voi non centrate niente e potrebbero raggirare delle situazioni per far credere che voi siete dei criminali dei tossici degli alcolizzati o persone che hanno malattie croniche o psicosi croniche o fanno credere che siete malati di mente pazzi schizofrenici e tantissimo altro la mia email cari amici vittime del controllo neurale crocce la gmail punto com se mi volete contattare direttamente Emiliano Babilonia ricercatore su facebook contattatemi tramite messenger io quando ho un po' di tempo vado a controllare i vari messaggi e vado a controllare le email un saluto a tutti amici da ricercatore indipendente Emiliano Babilonia purtroppo oggi attraverso il sistema ipnotico e attraverso la perdita della memoria temporanea mi hanno bloccato una deduzione celebrale e purtroppo tutta la situazione mi si è riversata contro perché non ho proprio pensato immaginato minimamente di entrare all'interno di un locale e andare subito alla reception per segnalare che io entravo con un prodotto acquistato un po' di giorni prima senza ovviamente scontrino solo col prodotto hanno pensato o gli hanno fatto pensare che io ero entrato invece a rubare il prodotto quindi purtroppo purtroppo me l'hanno fatta speriamo bene che in un pilotino persone delle forze dell'ordine che magari gli fanno credere che la loro pistola d'ordinanza è un gelato al cioccolato o un gressino o un galippo o qualche altra cosa e magari premono il grilletto invece si credono che stanno premendo che ne so un distributore della panna un tubetto della cioccolata un dentifricio e che magari potrebbero ovviamente simulare un suicidio ma che in realtà è un omicidio colposo preintenzionale con l'aggravante del metodo terroristico militare e mafioso militare per togliersi magari testimoni scopoti